Oggi prepariamo una gostosissima barbottina partendo da ingredienti semplici e naturali. Ah, non è un video di cucina, è un canale sulla ceramica addirittura. Ah, buono a sapersi. Bentornati e bentornati al canale, oggi vi faccio vedere tre modi per preparare la barbottina. Ma che cos'è la barbottina? Beh, sicuramente non è un piatto da offrire ai nostri amici, ma è quella che diciamo in gergo si può definire la colla dei ceramisti. Perché sì, usiamo la barbottina per unire due o più pezzi di argilla insieme. E di solito la usiamo o nel colombino, per esempio, per unire i vari colombini, e potete trovare qui sopra un video dove la uso appunto col colombino, oppure per unire le parti finali di due lastre, oppure anche per unire decorazioni a oggetti, per esempio, creati al tornio, come possono essere manici o pomelli. E la barbottina può essere usata anche come la nostra base per creare degli ingobbi fatti in casa, come abbiamo visto in uno dei video precedenti. Adesso avviciniamo la telecamera, così vi mostro i tre modi con cui io preparo la barbottina e fatemi sapere qual è il vostro modo preferito. Se ne avete un altro, scrivetemelo qui sui commenti. Andiamo! In questo primo esempio sto usando argilla bianca da colaggio pellettata, vedete, in piccoli pezzettini. È bella secca. E che faccio allora? Prendo la mia argilla bianca, la inserisco in una ciotolina e la ricopro di acqua calda fino a ricoprirla tutta quanta, in questo modo. Dopo che sarà passata un'oretta o anche due, avrò praticamente questa situazione qui che ho preparato prima. Quindi l'argilla si sarà sciolta, l'acqua in eccesso sarà risalita in superficie e quindi che faccio? Elimino l'acqua in eccesso e con un pennello vado a sciogliere la mia barbottina. Se ho bisogno di altra acqua, l'andrò ad aggiungere piano piano e mescolerò fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo senza troppi grumi. Questa è la cremosità che voglio ottenere. Per il secondo metodo che vi voglio fare vedere, quello di cui abbiamo bisogno, sono gli scarti di lavorazione. Per esempio qui ci sono degli scarti di lastra in argilla bianca che si sono seccati completamente. Quindi quello che facciamo è spezzettarli in tanti piccoli pezzi. Quello che vogliamo ottenere sono tanti piccoli pezzettini che possiamo andare poi con un martello a schiacciare ulteriormente e a rendere ancora più piccoli. Come nel metodo precedente andremo a mettere in ammollo una parte di questi scarti finemente spezzettati in una nostra ciotolina con dell'acqua calda fino a ricoprirla sempre, diciamo, 1-2 mm sopra il livello dell'argilla stessa. In questo modo qua. E andiamo ad aspettare sempre una mezz'oretta, un'oretta, prima di mischiarli. Dopo che sarà passata una mezz'oretta siamo pronti a togliere un po' dell'acqua in eccesso, in questo modo qui, non tutta, e iniziare a mescolare la nostra barbottina fino a ottenere lo stesso risultato di prima. Eccola qui. Il terzo metodo è il più veloce perché vado a utilizzare della polvere di argilla. Vi dirò dopo come ottenerla. Ed è quindi più veloce perché non ci vuole veramente niente perché diventi barbottina. Quindi inserisco nella mia ciotolina un po' di argilla in polvere e pian piano vado ad inserire l'acqua. Un poco alla volta. E inizio a mescolare. Visto che c'è molta acqua vado ad aggiungere un altro poco di argilla in polvere. E mischio e giro, giro, giro finché non avrò sciolto tutti i vari grumi. Vedete, con questo metodo non ho dovuto aspettare tantissimo e ci vogliono solo 5 minuti per preparare la nostra barbottina. Avete visto come è stato super semplice creare la barbottina con questi tre metodi? Come mi dicevo, come creo invece la polvere di argilla? La polvere di argilla è uno scarto della lavorazione di alcuni pezzi dove utilizzo appunto per la rifinitura della carta vetrata. Quindi tutte le polveri di argilla che si accumulano le raccolgo e le filtro con un setaccio. Come al solito, se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale perché per me è la cosa più importante per poter andare avanti con tanti nuovi video. e chiaramente condividete. Ci vediamo presto per un nuovo video sulla ceramica. Buona ceramica, ma soprattutto buon appetito!